e poi per uno perché ci sono le lasagne vieni qua aspetta dimmi te quanto ne devo dare che brucia non è il mio vai vai un pochettino ce ne do ancora? sì un dito a posto tanto questa mangerà solo questo non è che ce ne sia tante perché ne ho fatto uno perché poi ci abbiamo anche le lasagne lo so Ivar cazzo Ivar non ce l'ha posata ce l'ha come no? questa è la tua quella lì è di mamma e questa è la mia Ivar non ce l'ha io l'aglio non lo voglio lo prende Giamma non ce l'ha la posata davvero la posata tua non l'hai presa? sì che ce l'ho te Giamma ce n'hai per te lì vai lui usa il cucchiaio penso aspetta io un po' di assaggiare lì ho toccato il sedile mi sembra dammi l'aglio calma aspetta quello dopo se magari ne volete ancora ma c'è un'altra poi c'è la parmigiana e poi c'è la lo pigli tu il coso di legno? cazzo sei porzioni siamo in due pino classic allora abbiamo maniato con Ivano come sempre quell'altra lì dice che dico sempre le stesse cose tutte gelosine lì no? perché ho fatto il video lì un po' un po' spinto ma comunque ragazzi era tutto dico un accordo non so come dire quindi boh pure quell'altro lì che ha detto ho perso la tua stima di che cosa? per me puoi anche le porti dal c***o perché non me ne f***o assolutamente niente andiamo a lavare i panni le pentole wow guarda mi sono veramente rotto le palle a dire sta roba qua parli parli ho perso la tua stima di che cosa? perché faccio l'amore più di te? se potessi imparare le mia mansarda ma che c***o dici? ma sei fuori? cioè io mi alzo a mezzogiorno faccio i c***i miei dai qui da se se la roba l'avevo abbiamo lavato le stoviglie di Vines cioè ma in realtà a me mi potrei soltanto succhiare il c***o davvero eh? perché fino a prova contraria quello che si sveglia a mezzogiorno quale due di pomeriggio e va letto alle 6 di mattina chi è? io però non fate gli hater gne 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 metti la donna in copertina fai i video che fai quello non hai rispetto delle donne bro fai te a me non me ne f***o un c***o io non obbligo nessuno a venire nel mio campo a scopare fai te cioè chi è lo scemo? io te chi è quello che scopa? io te ma svegliati va? forse non ci hai capito un c***o dalla vita fai un lavoro di merda e sei incazzato con la gente c'è un cane che è bellissimo bellissima perché donna femmina vaccinazioni fatte collare nuova i soldi non mi mancano buh sto una favola non pago bolletto fai te qua c'è i vinex che ha sempre fame vabbè che devi fare devi fare da mangiare qua abbiamo fatto piselli aglio peperoncino un po' di pastina e lenticchie facciamo andare bene qua i vinex sempre fame famax senti come va la pompa della shurf o come si chiama quel c***o di cosa che i vinex ha la sua età vuole la roba cotta bene dove vabbè 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 che tempo adesso ho smesso un po' di piovere ma veniva giù il lupo me l'aveva detto goditi gli ultimi giorni di sole è venuto giù un casino raga ho svegliato il vento alle 7 e un quarto tipo il furgone sembrava quando vai con la nave e c'è tipo il mare mosso qua si ribalta tutto poi non potevo portare fuori neanche l'una perchè più va di brutto poi si impiassa infatti vedi appena c'era il furgone ora stava facendo la c***a ma la raccogliamo c'è sempre Ivano con noi praticamente resta con me quando scendiamo giù in Puglia viene giù con me abbiamo un compagno di viaggio dai luna andiamo vediamo che qua mi sa che non è fuori un casino ancora qua vado sempre a fare il sex dai luna si piana piana oggi ha detto Ivano che vuole frelletta tagliate lì fuori ma con Ivano si magna stamattina non ci manca quello sicuro vediamo la lavato anche se io lo tengo apposta fuori io non lo lavo da qua fino ad ora che lo ha lavato è un calio nero si parla di c'era pista non mi ricordo forse un anno ma io non lo lavo apposta fuori più fa c***are fuori meglio è l'importante è che sia apposta bene così nessuno viene a spaccare le balle hai luna torniamo dentro che dici dai lascialo il divano a dormire dai su dai poi ci ha regalato devo passare aspirato ci ha regalato i ventilatori questo corra frescatore mi riempie di regali Ivano se vabbè ragazzi che due balla oggi si starà tutto il giorno nel furgone perché non c'è vai su luna su che sei bagnato lì vabbè ci vediamo al prossimo video che qua è già un disastro dopo un punto di tutto nei vostri pezzi esaltate le gang e la droga la nostra arte è uno specchio della realtà il rap non è un'arte voi non potete venire qui e molestare i miei clienti per via di come si vestono vuoi vivere la vita di questi delinquenti? ti accontento? invece una piccola verità e la gente perde la testa io ho qualcosa da dire continuiamo così e ci prendiamo il mondo bello come come straight out and turn up 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 Grazie a tutti